Allora intanto andando cronologicamente in realtà erano uscite un sacco di foto di Rocky e Rihanna alle Barbados appunto che erano in vacanza mentre da noi e su Instagram e dappertutto sul web usciva la news che poi si è dimostrata fake che Rihanna e Rocky si stessero lasciando, avesse delle crisi eccetera eccetera che praticamente Rocky è arrivato appunto da questa vacanza alle Barbados e appena è sceso dall'aereo all'aeroporto nazionale di Los Angeles è stato arrestato e sembra che in realtà la polizia lo stesse seguendo e lo stesse indagando ormai già da un po' di tempo tutto per una sparatoria non so se avete visto era una sparatoria che in realtà era successa ad una vittima che non è stata identificata ad Hollywood però secondo quanto sosterebbero gli agenti il soggetto che avrebbe premuto il grilletto sarebbe stato riconosciuto proprio come un uomo dell'età di Rocky quindi sulla trentina d'anni che appunto sarebbe stato proprio identificato come Rocky Myers ossia Azap Rocky in realtà lui è stato arrestato e è stato rilasciato subito come spesso succede on bond e quindi pagando però non vuol dire che si sa già di che morte dovrà morire per virgolette nel senso si sa già se lo accuseranno se sarà colpevole innocente eccetera eccetera semplicemente gli è stato detto deve aspettare fino al 16 agosto e il 16 agosto è la prossima data in cui è stato fissato appunto il trial quindi il processo in cui Rocky verrà appunto sentenziato e verrà... si capirà se effettivamente dichiararlo colpevole o no di questo sparatorio di questa aggressione e la cosa strana è che di questa sparatoria non si è mai saputo niente del fatto che fosse indagato appunto non si sapeva assolutamente niente la sparatoria comunque risale a un bel po' di tempo fa non si sa ancora niente in realtà praticamente sul caso è tutto molto molto vago però il LA Police Department quindi il ripartimento di polizia di Los Angeles ha rilasciato un report, un articolo in cui è proprio scritto che le dinamiche della situazione sarebbe state che è scoppiato una discussione appunto che sarebbe poi tramutata in sparatoria ed erano presenti diverse persone, la maggior parte sono scappate correndo però Rocky appunto sembrerebbe proprio essere il ragazzo riconosciuto come la persona che ha sparato è la cosa ancora più strana che appunto si è discussa sul web però senza sapere bene senza avere nessuna cognizione di caso in realtà perché nessuno sa poi bene cosa sia successo o cose simili però appunto mentre è stato arrestato ci sono usciti dei video dei poliziotti che gli entravano in casa e non si sa cosa succederà non si sa perché gli siano entrati in casa proprio sfondando la porta ma quanto è strano pensare che Rocky abbia ma qualche mese fa nel 2021 appunto quindi una roba di tanto al 2021 Rocky era già bello che conosciuta aveva già droppato pure testing cioè era già ricco faceva date in tutto il mondo chi cazzo l'avrebbe mai detto che Rocky avrebbe fatto una cosa del genere? cioè perché no per carità però anche perché sì nel senso è vero Asap Bari aveva messo la storia della faccia del tipo che dovrebbe aver parlato esatto perché in realtà la storia che poi è uscita almeno Asap Bari che appunto è fondatore di Vilon un membro dell'Asap Mob avrebbe messo questa storia con la foto di quest'altro membro dell'Asap Mob non so dirvi il nome però comunque appunto quest'altro membro dell'Asap Mob è stato accusato di aver snicciato su Rocky ed aver parlato di Rocky per non si sa bene quali dinamiche appunto è tutto ancora molto molto vago contate anche che Bari non è forse la fonte più attendibile del mondo però per carità non vedo perché dovrebbe dire una cazzata è che anche lì il fatto che Bari dica che appunto un altro membro dell'Asap Mob abbia snicciato è quasi un confermare che Rocky abbia fatto quella cosa anche perché appunto Rocky ci è stato arrestato proprio perché qualcuno ha detto che lui era coinvolto effettivamente in questa sparatoria quindi boh chissà non si sa per ora lo so che ho detto mille volte chissà e boh però è vero non si sa proprio a me ha fatto veramente strano io non me lo sarei mai aspettato da Rocky cioè nel senso era l'ultima persona che mi sarei aspettato un po' come quella roba di Polo G di cui parlavamo qualche tempo fa che forse di nuovo è una dimostrazione a meno che poi non si rivela e non si riveli in realtà questa sparatoria è un po' una dimostrazione di quanto la polizia ce l'abbia in generale con i rapper e eccetera è un po' un po' un po' è un po' un po' un po' un po'